Era essenziale, tu ci chiedevi, lavorevi, ci chiedevi, ci chiedevi, ci chiedevi, e avrete un'idea via, lascia tranquilla, conoscete l'idea, la lascia tranquilla, e poi che avete preso, poi sono anch'io, finalmente vi conto, tu lo vedi più di qualsiasi attraverso al mondo del paese. Maggio non è più espusa, però, in questione di te devo onorare tutta la vera ossa, che appunto mi accoglie l'estate, tutti gli anni, inseriti. Per noi l'estate, di fatto, mi rimasi in Maradona, nel senso che mi viene fatte tante, mi rimette i iconi, i tail, la venta di uno degli anni, e tante altre ancora, è un po' la tua seconda, la tua seconda casa. Sì, esatto, mi piace ancora la cittadinanza nuova, è appunto che siamo più piccoli a casa, in un salto, in un po' sempre. E con due parole a questo gigante, però che ho guardato la passione di ferro, lo sbaglio, per il panino. Abbiamo un attimo al palco, perché quando c'è anche il pedale, il dento, la vai sotto al palco, buona amici Swiss, remember, danso! Allora Michael, abbiamo deciso di un senso molto interessante per arrivare alla competizione. Allora, lì c'è la prima l'inversa femminile, Isabel Zanni. E lì c'è la Bracsoni Fairo. Allora, Michael, qui termine a la qualsiasi place, la Bracsoni Fairo, la Bracsoni Fairo, la Bracsoni Fairo, la Bracsoni Fairo. Qual è il tuo souvenir di questo viaggio nel Torre di Gia? Qu'il è precedente già l'anno scorso? La Bracsoni Fairo. La Bracsoni Fairo è sempre molto importante. La Bracsoni Fairo. Lì c'è stato un bel gosso. Lì c'è stato un bel gosso per la Bracsoni Fairo. Ma un grande souvenir, ci sarà di far servire un tiramisu, un attimo, un attimo, lì c'è stato un attimo, un attimo... Non c'è stato un attimo, ma non c'è stato un attimo. E qui ci sono stati, c'è stato un attimo, il rispondi, il rispondi, non c'è un livello di dire, lui è più un attimo, il rispondi tra le donne, tutti i rispondi, le rispondi, il rispondi, c'è l'altro che fa la differenza. Io ti chiede la questione con te, come è che sta passando l'alpha? Io sono lato con il passato, ma non è passato. C'è un momento in cui il me ha lasciato il rapporto per passare. E poi, io sai che dopo, hanno sentito il giro a fare l'alpha, ma nella lista dell'alpha, non è passato l'alpha. Combien de le lege ci ha sul colo? C'è l'alpha dire, ma non di centimètre. ma c'était un po' di neige e fino a che l'esumente? in quanto riguarda l'esumente? 200 m di livellet? diciamo fino a la base dell'altra c'è il check point non c'è più di neige o del tourmayo? io diria che è un po' equivalente che ci sia un po' che mi conto apprisse allora la città un po' di bravo e ci stiamo giocchi che sono tosse e sono arrivati un po' la pausa proprio su Svizzera un amico Michele Nelson non lo vedete non lo vedete chi è mancata la mia cultura? dico la linea che è mancata voi voi vedete stampata stiamo che a tempo 30 viceversa anni, tombo, riempio, sardeglio un grande applauso per gli amici due giganti del tour cosa fai? Borsani grazie 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 grazie